Prima di iniziare il video un ringraziamento speciale a tutti gli organizzatori dell'evento Volt Tour di Bologna al quale noi non abbiamo potuto partecipare ma siamo andati a salutare la domenica pomeriggio e abbiamo avuto l'onore, oltre di conoscere quasi tutti gli altri youtuber e streamer di Keyforge anche di fare una partita con il buon Fabforge Vi lascio alla partita, mi raccomando non dimenticatevi di lasciare un like, iscrivervi e condividere il video Buona visione! Cominciamo subito, dobbiamo decidere chi inizia e tiriamo ovviamente la moneta Con calma, mi raccomando, testa, testa, inizia il buon Jack, Jack Aniketos Ok, questa è una cosa stupida da dire, lasciamo stare Comunque non mi ricordo cosa chiamo come prima casa, mi sa... non me lo ricordo Ombre? Sì, ombre, ombre Gioco ombre di prima mano, un bell'umbra, ci sta tantissimo, è molto comodo Perché lo volevo ripristinare ed utilizzarlo Il buon Fabforge rimescola la propria mano perché non gli andava bene Io busso automatico perché mi dà fastidio alzare le mani Mani alzare... ok E tocca a lui giocare Con molta calma ovviamente, noi non abbiamo mai fretta Allora, gioca il terrore, si spara subitissimo due ember che io non vedevo l'ora di rubargli Con il mio umbra che tra l'altro mi sono dimenticato di ripristinare Ma lui me lo fa tornare in mano e quindi... Ero molto triste, ero molto triste Ero moltissimissimo triste, con paura, la carta si chiama Il terrore invece è quello che gli ha permesso di fare due ember Perché ricordiamo... ah ok, poi dopo mi caccia il controllare i deboli E mi dice, ehi, 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 devi giocare questa casata qua Che è sempre ombre Però per fortuna io ne avevo diverse in mano E quindi riesco a giocare un tot di carte Scusate se non mi ricordo ancora a memoria tutte le carte In realtà il mazzo che sto usando io è della nuova espansione E quindi è un po' diverso Comunque gli ho rubato un'umbra Uno è Yankee e l'altro... umbra lo conoscete L'altro è semplicemente... Stiamo riprendendo però, non so se... Vabbè, niente di male Vabbè, lo dai Allora mi spieghi perché lei debba sapere robe di editing Aspetta, se non piacere Ok, continuando la partita Adesso tocca al buon Fabforge Gli ho sparato giusto due danni sul terrore prima per rubargli l'ember Lui gioca... questa carta che non mi ricordo come cac... però si chiama Ah, è la fossa È la fossa Gioca esaurito... no, gioca pronto Il buon Ulick Megabocca Mi ammazza l'altro disgraziato E mi ammazza tutto Cioè in poche parole mi ha segato le gambe a tutto E Ulick è ancora in vita con due danni All'attivo Sta a me, sta a me E decido di dichiarare i Brobner Perché i Brobner ci piacciono Sono quelli grossi E in questo mazzo Allora, Pingol Il fastidio Si chiama Pingol il fastidioso? Qualcosa del genere? Qui, ecco, faccio un errore Che pensavo Il Gramp da guerra? Si chiama qualcosa del genere In realtà non ha effetto gioco Però me ne accorgo Per fortuna E gli dico No, scusa, rimettilo in campo Perché mi sono sbagliato Purtroppo facciamo anche degli errori E... Eravamo tutti molto molto stanchi Eravamo tutti molto molto stanchi Infatti glielo faccio rigiocare E... E concludo il mio tour E qui glielo spiego Dico, guarda che non ce l'ha l'effetto gioco Cioè, combattimento raccolta Quindi sti cazzi, va bene Ripristino le questioni E passi il turno Tocca il buon Fab Forge Non è la... La web È un effetto sbagliato E... Accesso alla biblioteca Lui ha accesso alla biblioteca Ricordiamo Stiamo giocando un mazzo della vecchia espansione Contro un mazzo della nuova Lui mi dice che non posso combattere E in questo caso L'effetto Pingoli fastidioso Dice che le creature Devono essere usate per combattere È una cosa che vi spiego Perché dopo succede Va bene Alterazioni di fase Pesca Intanto sta pescando Sapete come funziona Con accesso alla biblioteca Può giocare una carta Stano Locus Gioca il buon John Smith Comunque Pingoli dice che Le creature se possono Devono combattere Se possono Ma Per esempio Nel caso di Nebbiogenesi Tu puoi Raccogliere Perché Dice È specificato sulla carta Pingoli il fastidioso Che Vabbè ha giocato anche tempo invertito Lasciate fare Pingoli il fastidioso Dice che Se possono Quindi se Lui ha tirato Nebbiogenesi Le mie creature Non possono combattere Quindi possono raccogliere Anche se non sarà questo il caso Perché io giocherò Logos Perché Logos Perché Il buon Marziano John Smith È una delle carte Più fastidiosi Di questo gioco E quindi me lo volevo Subito levare dalle scatole Porca miseria Che Fastidio Infatti mi archivio Subito una carta Qui qualcuno ha dato Una botta incredibile A una webcam E qui ho sbagliato Quello è un danno Non è un'ambra Jack Jack del passato Rincoglionito Ecco Gioco Hard controllamenti E gli rubo Il John Smith E in più Gioco La macchina Da qualcosa Assassina Incredibile Impazzita E vabbè Il pulsante della morte Che però non è così Della morte Vediamo se mi riesco ad accorgere Che mi sono messo un danno Al posto di un'ambra Penso ci vorrà un po' Non ero particolarmente Cioè non lo sono in generale Però vabbè Lasciamo fare Lasciate fare Che me ne accorgerò Prima o poi Succube Albuon Fab 4 Gioca Succube Gioca un altro Controllare i deboli E mi dice Che devo giocare Per forza ombre Perché Perché Non ha Perché Qualsiasi altra cosa Ecco Me ne ero accorto Qualsiasi altra cosa Gioco Sarei stato Bastanza Fastidioso Probabilmente E quindi Ma Ha deciso Di farmi chiamare Le ombre Ma per fortuna Io di ombre Ne avevo Un botto E qui Gli ne fotto una Con una carta nuova Che dice Ruba 1 Se ne assetto più Ruba 2 In più gioco Il mio buon Umbra Che ne ho diversi In sto mazzo Cavo dai maroni Le chiavi Perché sono Ovviamente In mezzo gioco Quell'altro Non mi ricordo Che cavolo fa Ha Ha Illusione Una carta inutile Che ha Illusione Schermaglia È un 3 Con illusione Schermaglia Non so Cosa potrebbe Servire Però C'è Nel mazzo Usiamolo Bene Termino il mio turno Tocca il buon Fabforge Nei biogenesi Di nuovo Non posso combattere E qui vedrete L'effetto Che lo sfrutto Con Dovrei Sfruttarlo Con i Brobnar Per raccogliere Un botto Ragno Etereo Questo Mi darà fastidio Ma fino a un certo punto Il buon Fabforge Termina il turno Rimescola il mazzo E tocca di nuovo A me Pingol Ecco appunto Spiego l'effetto Di quella carta Che io Posso Adesso Raccogliere Perché Lui mi ha impedito Di attaccare Ergo Io posso utilizzare Le mie creature Brobnar Per raccogliere Perché ho dichiarato Brobnar Se non sbaglio Busso ovviamente Perché mi scoccia Alzare E vediamo Come prosegue La questione Ok Stamè Brobnar Abilità con alfa Primo sangue Faccio Due danni Per ogni creatura Brobnar Amica Distribuiti Come mi pare Quindi Gli hanno fatti Gli ho segato Praticamente Succube E Megabocca Perché Sono due carte Molto fastidiose E L'ambra La metto Sul ragno Vabbè Gioco Qui vi faccio vedere Come prosegue Perché avevo finito Lo spazio sul campo Altrimenti Non avrei ripreso Le nuove carte Giocate Quindi L'ho messo Di là La signorina La bistecca Per gli amici E Va bene Raccolgo con pingol Perché posso farlo Dato l'utilizzo Di nebbiogenesi Raccolgo con Quello lì Che non mi ricordo Come si chiama E lo metto Un altro sul ragno Poi dopo Cosa sto Ah Posso andare a cercare Il suo effetto È che Raccolta Posso andare a cercare Un grumpus Nel mio master E mettermelo in mano Adesso l'ho preso Me lo sono messo in mano E lo gioco Ovviamente Perché Te lo danno Non lo giochi Sei scemo È il bello Di questo gioco Di questa carta Alzi pure Signor Fapp Grazie Grazie La ringrazio molto E Bene Andiamo avanti Lo gioco Ovviamente La di fianco Un altro gigante Perché è comodo Lo uso per raccogliere Attivo Stavolta Il suo effetto Si ripristina Per combattere Quel gigante lì Ma dato che Non può combatterlo Riutilizzo Per raccogliere Ma non avendo Altri grumpus Nel mazzo Nel cimitero Non lo vado Proprio a cercare E mi pare Di aver finito Il turno E gli ho dato Un botto Di Ambra sul ragno Ora tocca Al buon fanforge Vediamo cosa chiama Chiama Dis Dissi che era Un buon Ok Ok Scusate Perdonate 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 Il terrore Il terrore Viene giocato Paura Si riprende in mano John Smith Cosa molto comoda Ha fatto molto bene In questo caso Perché Insomma Mi leva Si levava un fastidio Che non potevo utilizzarlo E mi dice Di giocare Non mi ricordo Logos Se non sbaglio Logos Perché Aral controllamenti Non mi da fastidio Qui faccio un altro errore Mi dimentico dell'effetto Di pingol E raccolgo Ma dopo me ne accorgo E quindi tolgo L'ambra dal ragno Non sarebbe comunque Cambiato niente Va bene Gioco quella carta là Che praticamente Dice guarda le prime tre carte Scartane due Tente ne mano una Gioco lui Che è un'altra carta nuova E quindi non mi ricordo il nome Porca miseria Ecco qui Faccio l'errore della raccolta Praticamente quel tizio Che ho giocato prima Dice Raccolta Pesco una carta Per ogni logo Samico in gioco Però lo devi giocare esaurito Quindi Sto cazzo Bene Continuando la partita Continuando la partita Sparo un danno Sul ragno etereo Praticamente dice Che se Sparo un danno A una creatura nemica Se muore Pesco una carta Ecco qui Dopo Tra un attimo Mi accorgo che Gli hanno messo in più E utilizzo la macchina killer Impazzita Si chiama Qualcosa del genere Bene Gli spacco il terrore E io mi spacco Ovviamente Harald controllamenti Che non mi serve Assolutamente niente In realtà la mia speranza Ovviamente Era di distruggergli Il ragno etereo Perché mi dava fastidio Mi sa che me ne accorgo Sul suo turno Qui dovrei Tra un po' Dovrei accorgermi Che gli ho dato Una shard in più Perché lui cercherà Di raccogliere Col ragno E io gli dico Che non può Perché se può Deve combattere Cioè adesso Sta parlando Sta decidendo Ecco Qui c'è la raccolta Tra l'altro Non ce ne accorgiamo Mai subito Eravamo stanchi tutti Lui poveretto Veniva fuori Da sei ore Di streaming Io venivo fuori Da dieci Di lavoro Eravamo in delle Pessime condizioni Entrambe Va bene Gioca 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 E qui gli dico Aspetta Ehi amico Aspetta E non può Raccogliere Perché c'è quello Che dice Che deve combattere Per forza E lui Ah è vero E allora io dico Ah ma aspetta Anch'io con Quell'altro Harald controllamenti Non potevo raccogliere Cava l'hambra Tanto l'avrei Suicidato comunque E non l'avrei usato Per attaccare Perché è inutile Attaccare con un Harald controllamento Esatto Vedete come Vedete gli cavo L'hambra dal ragno Perché non l'ho raccolta Non potevo raccoglierla Diciamo che Non siamo bravissimi A saccare Ma almeno ci accorgiamo Quando facciamo Delle cagate Per fortuna E vabbè Qui sto continuando A spiegare Il fucking effetto Di quella minchia Di pingoli E lui ovviamente Mi ha detto Ma prima hai raccolto Con i brovner Sì perché tu mi hai detto Che non potevo combattere E dato che Sulla carta è specificato Se puoi Se possibile Dato che non era possibile Combattere Le potevo usare Per raccogliere Pronto Vabbè continuiamo A parlare di cose Voi lo vedete Senza audio Questo video Quindi Sentite solo me Che dico cose Che faccio La telecronaca Incredibile Tocca A Cioè in realtà Tocca ancora a Fabforge Non ha finito il turno E siamo qui Che stiamo chiacchierando Perché ovviamente Non essendo partito ufficiale Non avendo tempo limite Lui gioca il John Smith Prontolo Però non può raccogliere Però può combattere Dato che l'effetto È combattimento raccolto Lui potrebbe tranquillamente Tirarmelo su uno Che ha Illusione E quindi non subire danni E quello glielo sto dicendo Anche tra l'altro Se lui attacca uno Con illusione Comunque Può far proccare l'effetto Senza subire danni Senza doversi suicidare E dato che io Esatto Avevo diverse Carte Lui dopo si ripristina Per attaccare di nuovo Uno con illusione E poter fare Entrare L'effetto Di 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 Gira la carta Che non mi ricordo come si chiama Gira la Gira la Gira la Gira la Gira la Per fargli Praticamente Proccare l'effetto E E praticamente Rivelarmi Una carta creatura Della Soma No 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 L'ha usato per picchiarmi Giusto Ma Mi ha segato quello lì Perché gli dava fastidio Se avessi chiamato logos Avrei pescato Due carte Che in realtà Ma non tanto non potevo raccogliere Quindi Questa mossa secondo me L'ha sbagliata Vabbè si archivia Vabbè si archivia Quella creatura Che in realtà Non usa più Perché la lascia lì Per tutto il resto Della partita Bene Credo Tocchi a me E gli da Della forza Che Ah Quella cosetta Che vedete Sul suo mazzo È una chiave Che se l'è forgiata All'inizio Non l'ho detto Perché non me ne sono accorto Vedete Eh ci sono i segnalini Forza Benissimo Ok Ora sta di nuovo A me Yes Troia Brob No Facciamo su dell'ignoranza Facciamo su dell'ignoranza Perché Ce n'è Bisogno Lolpop Il titanico Undici di forza Non fa danno Quando viene attaccato Però è un undici di forza Porca merda È praticamente La versione migliorata Del drago Qualcuno sta entrando In questa stanza Va bene Attacco il ragno Qui faccio un errorino Se non ti ricordo male Attacco di nuovo il ragno Perché così Ripristino di nuovo lui Mi riprendo le mie ember E sono contento Perché finalmente Vado in check Perché il ragno fastidioso Del cappero Lo posso ripristinare Perché si tratta di un gigante Attacco di nuovo John Smith Attacco Attacco anche con Il piccoletto Perché? Perché volevo che morisse Perché in questo modo Posso raccogliere E dato che ho la bisteccarala Che non mi ricordo mai Come cacchio si chiama Posso raccogliere E dice Se è morta almeno Una creatura avversaria In questo turno Prendi uno Il che vuol dire Che ho raccolto due E ho fatto un botto di ember Pregando il cielo Che lui non me le rubasse O che non me le dimezzasse Ma non avendo ombre Io ero molto contento Poi dopo uso lui Per raccogliere E in questo modo Posso ripristinarla di nuovo Ed utilizzarla Per spaccargli Anche quell'altro ragazzo lì In questo modo Ho pulito il campo Ho raccolto un botto di ember Sono a tiro Per già due chiavi Non mi ricordo quante ne ho E non riesco a contarle da qui Ergo Contatele voi per me Poi ditemelo nei commenti Quante ne avevo Perché non me lo ricordo E poi vabbè L'olpopil gigante In realtà l'avevo tenuto lì Perché avevo un'altra carta Bellissima in mano Che non ho potuto usare Però Perché è morto prima Adesso lo vedrete Ecco appunto Morti tutti Fatto Vai benissimo Però le ember Ce le ho ancora L'importante era le ember Perché io dovevo avere Un botto di ember Infatti lui tira solo quello E mi passa il turno Ce l'aveva come paracadute E l'ha utilizzato Mi forgio una chiave La prima Finalmente sono riuscito a forgere pure io Però lui non ha più raccolto ambra Quindi in realtà sono molto in vantaggio rispetto a lui E tiro quella carta lì Dato che lui non ha ambra Dice Raddoppia ad entrambi i giocatori Le ember Con ovviamente alfa Quindi non ne puoi tirar due in un turno Puoi tirarla solo come prima cosa assoluta del turno Ma io in questo modo Ne avevo sei Tornò a 12 Tornò a 12 ember Quindi avevo potenzialmente Altre due chiavi E quindi potevo vincere Perché già ne avevo una E quindi vabbè Lo butto via E per essere un po' più sicuro Di riuscire a forgiare Gioco anche il meccanico titano Cioè non lo state ancora vedendo Ma lo gioco Ok ecco Ed è nel dubbio Gioco anche il meccanico titano Che non si sa mai Potrebbe dar fastidio E termino così il turno Lui gioca Logos Con quella strategia lì Che poteva essergli utile Un war mollino instabile Che non fa mai male E non mi ricordo Cosa è successo Vabbè a parte l'ambra Che si fa Gira la carta Gira la carta Gira la carta Nei biogenesi Non posso combattere Non mi dava molto fastidio In quel momento In realtà Andava anche abbastanza bene Tanto non mi interessava più Avevo l'importante Quello che mi interessava In quel momento lì Era appunto Che non mi rubasse l'ember Ne mi impedisse di forgiare Perché Perché chiudevo la partita E porca miseria Mi serviva che avessi Le fucking amber Non mi ricordo cosa chiamo Se ancora Logos O qualcos'altro Per tutelarmi Ma non mi ricordo niente Eh vabbè Si ferma Perché lui dice Ovviamente Non ho niente per rubarti Quindi Basta Quindi ragazzi Vi ringrazio Per essere passati Ci vediamo ad un prossimo video Vi ricordo di nuovo La condivisione Il like E l'iscrizione Attivate la campanellina Se ne avete voglia Ciao a tutti Dagli Anikidos JLL Al prossimo torneo Ciao a tutti